Le batterie sono degli accumulatori di energia, quindi come qualsiasi oggetto che contiene dell'energia possono rilasciare questa energia e se la rilasciano abbastanza rapidamente questo ovviamente si sfoga in calore che quindi può causare incendi o addirittura esplosioni. È una cosa molto frequente? No, è estremamente raro, se si pensa che questi casi fanno notizia mentre usiamo milioni e milioni di batterie quotidianamente, direi che è un caso estremamente raro. Quindi l'idea di eventualmente vietare ai minorenni di portarle con sé potrebbe essere una soluzione? Ma in mia opinione no, vanno educate le persone a gestire eventuali rischi, a non usare batterie danneggiate, acquistare solo prodotti di qualità, con le adeguate precauzioni chiunque può usare batterie senza problemi, non vedo possibilità di graversi danni. Si tratta di un evento raro, ma ci sono delle precauzioni da adottare per evitare che questo tipo di evento si verifichi? Per esempio non tenerle sotto il sole, non tenerle a lungo legate alla corrente elettrica? Sì, assolutamente. Come hai detto, è importante che sia una batteria di qualità e che quindi tutti i meccanismi di sicurezza siano stati studiati e siano funzionanti. Non vanno surriscaldate, quindi bisogna evitare grosse esposizioni al sole. In realtà il sole non è neanche così grave, però comunque vanno tenute lontane da fiamme, non vanno danneggiate, quindi non vanno perforate, assolutamente non vanno usate se sono danneggiate. Quindi per esempio se sono gonfie vanno assolutamente smaltite immediatamente e non utilizzate. Grazie, grazie Cristiano Griletti, responsabile di ricerca e sviluppo Silla Industries, grazie per l'approfondimento.